Buongiorno Davido, grazie per essere tornati in questo podcastino di Tech News, nonostante ieri YouTube abbia cercato di boicottarmi, non voglio fare intro oggi ma andare subito nelle news, ne ho un paio, tutto a tema Giappone, oggi è puntata a tema Giappone, è l'uomo del Giappone, sono io, quindi andiamo subito anche perché la modalità di registrazione è un po' diversa, mi sono scritto, sono tornato alla modalità di scrittura, mi sono scritto un po' le cose, quindi poi mi farete sapere, sentirò anche io un po' com'è il ritmo che viene fuori, se è ascoltabile decentemente, se comunque è una cosa fruibile, fatemelo sapere e immergiamoci nelle news giapponesi. Allora Nintendo, Nintendo naturalmente la conoscete tutti, grandissima casa giapponese produttrice di videogiochi e di console, soprattutto di console, infatti è in cima alle classifiche di vendite proprio delle console con Nintendo Switch negli ultimi anni, ebbene che succede? Che Nintendo ha deciso di fare causa all'emulatore di Switch che si chiama Yuzu, lo sviluppatore di Yuzu si chiama Tropic Haze LLC, ecco è una casa intentata da Nintendo of America, che sostiene che Yuzu viola le protezioni, ecco le protezioni tecnologiche e crittografiche che impediscono ai giochi Switch di essere emulati, quindi di essere riprodotti su altri dispositivi. E inoltre accusa Yuzu di aver incentivato la pirateria proprio su uno dei più grandi successi di Switch che è The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che poi era stato scaricato milioni di volte, dice Nintendo, prima della sua uscita ufficiale sugli store. Naturalmente sono anni che si dibatte della legalità degli emulatori, però genericamente, ecco, sono sempre stati considerati legali, nel senso come opere di reverse engineering. Infatti per esempio nel 2000 Sony aveva perso una causa contro Connectix, che era il produttore di un emulatore di PlayStation. Però Nintendo sostiene che non esista un modo legale di utilizzare Yuzu, perché bisogna ottenere, bisogna avere le chiavi crittografiche di Switch per poter proprio usare i giochi decrittando la sua crittografia. Yuzu sostiene, questo lo trovo anche su The Verge, sostiene di essere un emulatore legale, perché non include codice sorgente di Nintendo e non include chiavi crittografiche di Nintendo. Ad esempio la cosa era invece apparsa abbastanza illegale nel caso di Dolphin, che invece era l'emulatore per Wii, che includeva chiavi per decrittare. Nel caso di Yuzu non sembrano esserci, però comunque gli utenti devono fornire o il BIOS di Switch, oppure chiavi estratte da Switch modificate o scaricate in qualche modo. Anche Ars Technica ci dice che la posizione di Yuzu è proprio questa, quella di non fornire chiavi crittografiche, ma Nintendo sostiene che Yuzu violi la DMCA, perché consente di decrittare giochi protetti usando chiavi ottenuti in modo illegittimo e Nintendo cita istruzioni e le guide e i server Discord e i dati della telemetria che mostrano che gli sviluppatori e gli utenti di Yuzu usano l'emulatore proprio per la pirateria. Quindi tornando su The Verge, Nintendo chiede un'ingiunzione permanente contro Yuzu e la consegna del sito web yuzuemu.org oltre a danni monetari, che possono essere anche piuttosto elevati, infatti chiede danni statutari di 2.500 dollari per violazione delle disposizioni anti-circonvenzione e anti-traffico del DMCA e 150.000 dollari per violazione del suo diritto d'autore, anche se poi potrebbe optare per danni effettivi da determinare al processo. DMCA è l'acronimo di Digital Millennium Copyright Act ed è una legge dagli Stati Uniti che regola i diritti d'autore dei contenuti digitali. Naturalmente il DMCA mira proprio a prevenire, sanzionare la pirateria e l'elusione della misura di protezione dei contenuti. E la causa di Nintendo si basa proprio su una sezione del DMCA che vieta i prodotti principalmente progettati per eludere le misure di protezione dei contenuti protetti da copyright, che sembra essere proprio il caso di Yuzu. Infatti la legalità degli emulatori dipende proprio dal modo con cui sono creati e usati. Ora Nintendo chiede di fermare Yuzu, di confiscare naturalmente tutti i suoi domini e distruggere i suoi hard disk, oltre altrimenti pagare i danni che abbiamo visto. Su un altro sito che si chiama overkill.wtf, quindi naturalmente WTF, ecco, c'è un po' di ulteriore discussione intorno a questo, ma ci sono anche dei dati sul successo di Yuzu su Patreon, che è abbastanza consistente, perché Patreon, che è un sito dove si possono raccogliere donazioni per progetti, di solito progetti open source o di divulgazione, insomma, i creator hanno degli account su Patreon dove si possono raccogliere denari dei sostenitori, ecco, su Patreon Yuzu ha oltre 7.000 sostenitori e ha quindi un flusso di donazioni di quasi 30.000 dollari al mese. E ora, restando in Giappone, sono su The Register e scopro della fine dei floppy disk anche in Giappone, che è abbastanza strano, no, parlare della fine di un supporto così vecchio e così, tra l'altro, limitato proprio nella quantità di dati che può memorizzare. Ebbene, però, in Giappone è ancora parecchio usato, soprattutto a livello governativo. C'è l'obbligo di presentare circa 1.900 documenti ufficiali su supporti fisici come i floppy disk. non solo, ci dice Ars Tecnica, per cose come il commercio di alcol, le miniere e la regolamentazione degli aeromobili, bisogna presentare alcuni documenti in formati obsoleti, tra cui, appunto, i floppy disk, i CD-ROM e i mini disk, questo per le richieste ufficiali da parte di cittadini e imprese. E il ministro per la trasformazione digitale, che è Taro Kono, ha annunciato questa guerra ai dischetti, già a partire dall'agosto 2022. Bene, ora è ufficiale, dal 2024 non sarà più richiesto presentare i documenti su supporti fisici come, appunto, i floppy, i floppy da 3,5 pollice, non quelli grossoni, ma quelli piccolini, che magari alcuni di noi hanno fatto in tempo a utilizzare sui PC negli anni, fino agli 80, inizi agli 90. Che, peraltro, fun fact, i floppy disk da 3,5 sono un prodotto giapponese, perché li ha inventati Sony, che è, ovviamente, un'azienda giapponese, quindi sono rimasti uno degli ultimi paesi al mondo, insomma, che richiede l'uso di floppy o di dispositivi di archiviazione, insomma, abbastanza obsoleti e adesso si andrà verso la loro deprecazione ufficiale. E il ministro per la trasformazione digitale, appunto, Taro Kono, che abbiamo visto, ha descritto la sua campagna per eliminare i supporti fisici come proprio guerra ai floppy disk e ha proposto di spostare tutta la presentazione di dati, documenti, sul cloud. Però sta incontrando l'opposizione di alcuni governi locali e alcune agenzie che lamentano la carenza di personale e un carico di lavoro eccessivo. Ora, nonostante la fine dei floppy disk in Giappone, apparentemente dall'anno prossimo, esiste ancora una certa domanda di questi supporti, da parte soprattutto di hobbysti o utenti industriali, perché ci sono alcune aziende, alcune industrie, insomma, in cui questi supporti ancora servono, perché alcune macchine, così vecchie, diciamo, però hanno una durata magari di decenni, che ancora richiedono l'input di dati attraverso floppy disk. Esiste un sito che si chiama floppy disk.com, che è gestito da Tom Persky, che fornisce proprio dischi floppy e servizi di trasferimento dati da supporto più vecchio, quindi da floppy disk, ct-rom o mini disk, a invece chiavette USB. Quindi c'è qualcuno, ecco, almeno un business conosciamo, sul territorio americano, che va avanti grazie ai floppy disk. E infine, rimango in Giappone, ma mi sposto sul mercato della hardware, della produzione di chip. Infatti TSMC, che è il più grande produttore di chip al mondo, ha annunciato la costruzione di una seconda fabbrica di chip, Akumamoto, proprio in Giappone, con un investimento totale di oltre 20 miliardi di dollari e con il sostegno del governo di Tokyo. Ora, TSMC è il leader mondiale nella fornitura di componenti a, per esempio, Apple e Nvidia, e sapete l'esplosione che hanno avuto di recente, a sede a Taiwan, e a fabbriche anche in Cina e Stati Uniti. Tra l'altro c'è un piano per costruire una fabbrica in Germania, soprattutto per la fornitura di componenti all'industria automotive. C'è già un piano per una prima fabbrica di TSMC in Giappone. Era stata annunciata nel 2021, sempre Akumamoto, un investimento da circa 7 miliardi di dollari. Questa dovrebbe aprire a breve e inizierà la produzione di massa nel quarto trimestre. TSMC vede il Giappone come una fonte di lavoratori diligenti, queste sono sue dichiarazioni, e un governo con cui è facile trattare. E a proposito proprio del governo giapponese, c'è una sorta di scommessa sulle nanotecnologie, cioè sulla protezione di chip molto molto piccoli. Infatti Giappone sta investendo miliardi di dollari in un progetto ambizioso di rilancio della sua industria dei chip e una protezione della sua economia dalle crescenti tensioni che ci sono tra Stati Uniti e Cina. E ha voluto creare con un investimento anche pubblico una nuova impresa giapponese che si chiama Rapidus Corp, che mira a produrre chip logici di ultima generazione a 2 nanometri entro il 2027, partendo da zero, che è una sfida piuttosto impegnativa. Adesso chip a 2 nanometri, penso che al mondo soltanto TSMC abbia la tecnologia per produrli, dovrebbe fornirli a Apple e non so quindi partendo da zero come farà Rapidus Corp ad ottenere tutta questa expertise e anche gli strumenti per poterli costruire. Però insomma, il Giappone vuole sfruttare la preoccupazione degli Stati Uniti per la catena di approvvigionamento, ecco che parte naturalmente spesso dalla Cina, per tornare a essere proprio un protagonista nel settore dei semiconduttori che naturalmente è fondamentale per il suo posizionamento in diverse tecnologie critiche. Quindi Rapidus Corp dovrà affrontare delle enormi sfide tecniche, delle sfide finanziarie, anche naturalmente competitive, per realizzare questo suo progetto, questa sua visione. Però se riuscirà, potrebbe creare una nicchia di mercato proprio in Giappone e quindi contribuire alla diversificazione delle fonti, delle sorgenti di chip, che potrebbe essere piuttosto appetibile per sia gli Stati Uniti che anche l'Europa, per non dover passare appunto dai soliti noti che abbiamo già citato. E vi voglio comunque girare un paio di link anche oggi. Il primo me l'ha fornito direttamente l'ottimo Marcello, che ringrazio tanto, mi ha fatto abbastanza ridere. Sono arrivato circa la metà del video, non l'ho ancora visto tutto, però è piuttosto esilarante. Lo trovate su YouTube, si intitola Questo titolone, naturalmente vi lascerò poi il link nella descrizione dell'episodio, perché c'è questo canale YouTube che si intitola Code Therapy, che si chiama Code Therapy, con René Rebe, o Reb? Rebe? Non so. Insomma, lo troverete nel link. Insomma, è un programmatore e va ad analizzare il sorgente di un tool di Intel, rilasciato open source, per andare a fare analisi dei dispositivi Thunderbolt. E va ad analizzare il codice sorgente, che è il codice C, che però è abbastanza strano, diciamo abbastanza buffo, anche un po' inquietante, perché invece di essere codice C a basso livello, che fa uso appunto delle primitive di Unix, va in realtà ad utilizzare, a richiamare degli shell script. Quindi va ad utilizzare i tool, va ad utilizzare ls, addirittura va ad utilizzare sudo. Cioè va a chiamare da C il tool, il linea di comando sudo, per eseguire degli altri shell script come user, come root. Insomma, questo è un po' il delirio di questo codice, veramente strano, che arrivi da Intel. Insomma, quindi questo programmatore René, per quasi tutto il video, è fuori di testa, perché vede questo codice, lo va a commentare, dice com'è possibile che da programmatori professionisti che lavorano in Intel, e non da degli hobbysti che scrivono codice la domenica per il Raspberry Pi, arrivi questa roba. Vi giuro che è un'esperienza che vi consiglio di fare, insomma, a vedervi questo video e esplorare, ecco, insieme a René, le meraviglie di questo codice scritto da programmatori Intel. E l'ultimo link che vi do è GitLab Meeting Simulator 2024. Questo è molto bello, questo titolo di questo servizio. Purtroppo non è più disponibile, perché vi spiego cos'è. Ora, su YouTube trovate i video dei meeting di GitLab, che sono le registrazioni dei meeting di GitLab su Zoom. Quindi vedete proprio la schermata Zoom con le varie persone che parlano di GitLab, ok? E viene fuori che c'è un sacco di gente che usa questi video per far finta di lavorare, cioè per far finta di essere in un meeting, e quindi per non venire disturbato magari dagli altri membri della famiglia che passano lì. Ecco, c'è la scusa, sono in meeting, state vedendo a schermo questo video, sono in meeting, non disturbatemi, ecco, usano questi video per far finta di essere in meeting. Quindi qualcuno ha creato GitLab Meeting Simulator che embedda il video e poi vi copre la camera di uno dei partecipanti con la vostra, in modo che sembra che state partecipando alla call. Purtroppo attualmente l'embedding di quei video è stato disabilitato, probabilmente perché GitLab si è accorta di questa roba, quindi non è più possibile utilizzare GitLab Meeting Simulator, a meno finché non ripristineranno questo uso. Però comunque vi do conto ecco di questa notizia abbastanza divertente, dell'utilizzo di queste registrazioni di meeting per poi far finta di lavorare, e basta, quindi vi lascio con GitLab Meeting Simulator, vi darò il link a questo, poi potete cercare i meeting di GitLab su GitLab Unfiltred su YouTube. Ed eccoci qui, ho finito. Com'è andata? La mia percezione è che sia stata un po' troppo veloce, però magari invece mi sbaglio, adesso la monterò, vedrò quanti minuti poi vengono fuori, e boh, mi direte se va bene o no. Magari potrei farla soltanto ogni tanto, come modalità, oppure potrebbe diventare quella definitiva, non lo so. Si approfondisce poco, però magari arrivano più concetti in meno tempo, non lo so, sono anche magari più ordinato nell'esposizione. Boh, fatemi sapere, grazie di nuovo per avermi seguito, e ci vediamo a un prossimo buongiornissimo. Ciao!